Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Sulla statale 67 Tosco Romagnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. La viabilità cittadina inizieranno oggi a Firenze. I lavori in via Pistoiese per un guasto alla rete di e-distribuzione, senso unico alternato nel tratto via Cocco via Golubovic e cambio di senso in via di Cocco. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!